Ero un uomo perfettamente normale, con una famiglia perfettamente normale. Poi la notte del mio 65esimo compleanno, dopo la festa, un ladro armato di pistola ha ucciso me e la mia famiglia per un pugno di banconote e un televisore. Continuavo a svegliarmi dentro la mia vara sottoterra e a morire di asfissia. Finché Scott mi ha disotterrato e spiegato che come lui io sono un immortale. Non posso morire, non soffro la fame e mi basta un'ora di sonno al giorno, ma sono condannato a vivere per l'eternità in questo corpo ormai non più giovane. Col tempo Scott, all'apparenza ventenne ma in realtà secolare, mi ha insegnato a combattere le creature non morte che ci danno la caccia ed è diventato il mio unico amico e mentore. Lo scopo delle creature è staccarci la testa, poiché se questa verrà tenuta lontana dal nostro corpo per sette giorni, moriremo per sempre. Io sono Macmillan e sono immortale. Mac, sei pronto? Sì, sì, sono pronto. Hai detto che era una vacanza, perché tanta fretta di partire? E soprattutto perché così dannatamente presto? C'era tutta la mattinata. Il fatto che siamo immortali, caro il mio allievo, non significa che dobbiamo essere pigri. Alzarsi presto la mattina fa bene. Te lo dice uno che lo ha fatto per gli ultimi 500 anni. E guardami. Dimostro sempre la stessa età. Tu e il tuo umorismo da immortale. Ma insomma, dove siamo diretti? Perché non abbiamo prenotato un paio di camere in un albergo come le persone normali? Quel dannato camper sembra incredibilmente scomodo. Il camper ci serve per fare camping. Altrimenti che campeggiatori saremmo? Hai preso le canne da pesca? Ho preso tutto quel che hai chiesto, anche i fucili. E la spada che mi hai regalato. Bene. Allora, non ci resta che partire. Certo che è più comodo di quanto pensassi. Visto? E cosa sono tutti questi pulsanti? No, fermo, non toccarli. Eh? Bella vacanza. Io mi aspettavo Marshmallow se pesce arrosto nel bosco e lui ha nascosto nel camper un arsenale degno del Pentagono. Ma cos'è questa roba? Strumenti di rilevazione radar? Tu mi vuoi portare a caccia di non morti? Eh, bastava dirlo. Lo sai che ormai ho accettato di essere un immortale. E anzi, negli ultimi mesi ho anche imparato a combattere non male. Facci piano con la modestia, non netto? Comunque no, non stiamo andando a caccia di zombie, ma di immortali, come me e te. Credevo che gli immortali non si dessero la caccia tra di loro. Adesso chi è che guarda troppi film, eh? Non è come credi tu. Questa è una missione che ci è stata affidata dalle persone per cui lavoro. Dobbiamo... recuperare un immortale. Recuperare? Eccoci, siamo arrivati al luogo iniziale delle nostre ricerche. Ma questo è un aeropo... Non me lo dire, prendiamo un aereo. Non ho mai volato in vita mia, io ho paura delle grandi altezze. Sei un immortale. Anche se l'aereo cadesse, ti salveresti senza farti un graffio. Grazie, ora sì che sono tranquillo. Ma perché voi giovani siete sempre così spericolati? Giovane io! Lascia perdere. Facciamo mente locale, se no impazzisco. Abbiamo guidato fino ad un aeroporto privato in mezzo al nulla. Sì, l'ho comprato negli anni Ottanta. Poi abbiamo caricato il camper nella stiva di una C-130, che mi sfugge come possa essere tuo. Tutto quello che c'è in quell'aeroporto è mio. Sì, ho capito. E adesso stiamo volando verso l'equatore. Ma dove diavolo siamo diretti? Se te lo dico, prometti di non fare battute? Eh, va bene. Egitto. Grandioso, adesso siamo pure ladri di tombe. Sarà un lungo viaggio. Quindi questo sarebbe il Cairo. Caldino qui. Cosa ti aspettavi? Vieni, non siamo turisti. Il clima e il paesaggio non ci interessano. Il tuo concetto di vacanza non è molto differente da quello dei non morti, vedo. Ecco. Adesso che siamo di nuovo con le gomme per terra, non ci resta che inserire la trazione integrale e seguire queste indicazioni sul GPS. Esattamente in mezzo al deserto. Non me lo dire, si chiama deserto del nullà. Avrei dovuto insegnarti anche un po' di umorismo, oltre che a combattere. C'è sempre tempo in ogni caso. Ecco, siamo arrivati. Adesso, amico mio, segui attentamente le mie istruzioni. Eh? Vedi quel mucchio di sassi consumati? Devi andare là e ficcare questo bastone nell'unico sasso che ha un buco al centro. Che cos'è? Una trappola? No, è un semplice meccanismo. E allora perché non puoi farlo tu? Io ho caldo e non dimenticarti che ho una certa età. Ci risiamo. Sei immortale. Comunque, potrei farlo io. Ma vedi, alcuni secoli fa facevo parte di una spedizione archeologica e... Diciamo che l'altro immortale che era con me era quello del demone invisibile attaccato alla gamba. E beh... Si dice che questa tomba abbia una maledizione che attecchisce solo sugli immortali almeno centenari. Tu sei appena morto, per cui non dovresti avere problemi. Non dovrei? Ecco perché mi hai portato con te. Beh, suppongo che la pagnotta debba guadagnarmela in qualche modo. Tanto sono immortale, no? Non corro alcun pericolo, no? Tecnicamente? Vado, vado. Vado, 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 vado. Vado, vado. Vado, vado. Vado, vado.